Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Nella scorsa puntata vicino alla zona della giungla ho fatto la prima costruzione utilizzando il bambù, con tutti i nuovi blocchi che sono stati aggiunti nell'ultima versione di Minecraft. E a proposito dell'ultima versione di Minecraft finalmente è stato annunciato l'evento del Minecraft Live che si terrà domenica 15 ottobre a partire dalle ore 19. Quindi segnatevelo sul calendario perché ovviamente lo seguiremo in live su Twitch come tutti gli anni. Nell'episodio di oggi voglio portarvi qualcosa di particolare e soprattutto di originale. Prima però voglio mostrarvi i progressi che ho fatto in live perché in queste ultime settimane ho lavorato tantissimo alla zona medievale che avete visto forse in uno degli episodi dove ho costruito queste due torri. La costruzione che volevo mostrarvi e che ho fatto in live è questa chiesa. Prima però di andarla a visitare all'interno e anche all'esterno perché ci sono diverse cose, voglio ricordarvi di venirmi a trovare in live ogni mercoledì, venerdì e domenica a partire dalle 20 e 30. Il link del canale lo trovate in descrizione. Ricordatevi anche di iscrivervi a questo canale per seguire tutti quanti i video perché il 60% di voi ancora non è iscritto ma guarda comunque i video. Quindi se volete rimanere aggiornati con tutte le cose ragazzi mettete appunto un'iscrizione al canale. Allora iniziamo a guardare la parte esterna di questa chiesa che come vedete ha anche questo campanile che tra poco andremo a visitare. Però come tutte le chiese questa ha anche un piccolo cimitero che ho costruito qua all'esterno. Ho cercato anche in questo caso di mettere tantissimi dettagli quindi ci sono delle lapidi, c'è una croce qua in mezzo, il cancello di ingresso. Adesso ve lo faccio vedere dall'alto. Vedete è piccolino ma proporzionato a tutto il resto e quindi anche in questo caso ho voluto davvero metterci il massimo che potevo. Poi proviamo ad entrare adesso nella chiesa perché di cose da vedere ce ne sono davvero tantissime. Allora entriamo ovviamente dalla porta principale ed eccoci qua all'interno della chiesa. Come vedete anche in questo caso ci sono un sacco di dettagli soprattutto nella parte del tetto dove ho messo questi archi di legno. Poi anche qua sopra ci sono tanti tanti dettagli ma anche qua sotto ci sono le panche, ci sono questi banner con le croci, c'è un'acqua santiera qua, il tappeto qua sotto e ovviamente un altare con due candelabri che ho fatto in questa maniera. Qua sopra ci sono ovviamente dei libri e immancabile il leggio qua dove c'è l'altare. Dietro all'altare si trova una scala, una che porta al campanile. Ora proviamo a salire quindi prendiamo questa scala a chiocciola e arriviamo fino in alto. Qua mancano ancora le campane perché non le avevo da aggiungere quindi devo aspettare di ottenerle e poi le andremo a mettere. Ne voglio mettere almeno tre perché secondo me ci stanno bene e qua abbiamo anche una buona vista di tutti i dintorni. Scendendo invece dall'altra parte andiamo nella cripta. Ok iniziamo a scendere quindi e andiamo nella cripta che si trova da questa parte. Come vedete anche qui tantissimi dettagli, build hack un po' ovunque e ho cercato di creare una forma a croce perché sono andato anche a ispirarmi ad alcune foto che ho visto in giro ma soprattutto mi sono ispirato a ciò che ho visto quest'anno durante le mie vacanze in Irlanda. Qua ci sono dei piccoli altari, qui ce n'è uno più grande con anche un calice d'oro come vedete e delle candele. Voglio ancora aggiungere dei dettagli a questo posto ma ci devo pensare bene. Anche il pavimento è piuttosto dettagliato, ho voluto mettere queste pietre lavorate insomma per rendere tutto meno grigio chiaro. Là in fondo come vedete c'è un piccolo passaggio che al momento è chiuso perché un domani quando andrò a costruire il castello e ricordatevi che prima o poi lo farò, voglio creare un passaggio nelle catacombe dal castello fino alla cripta perché mi sono immaginato che in caso di assedio al castello praticamente si doveva fuggire da qualche parte e quindi si scendeva nelle catacombe, si percorrevano, si arrivava qua nella cripta, poi bastava salire da questa scala, scendere da questa parte, prendere questa barca, come vedete siamo all'interno di una piccola caverna, e uscire per raggiungere il fiume e quindi fuggire più velocemente. Ed è questo appunto il segreto di questa chiesa che come vedete ho cercato anche di nascondere il più possibile. E questo è tutto per quanto riguarda la costruzione di questa chiesa, qua ci sono altri dettagli ma ancora non voglio mostrarveli perché ci sto lavorando. Ma dopo questo tour spiegaci Tech che cosa andremo a fare oggi? Beh, ho deciso di costruire qualcosa con la redstone però davvero particolare, ci dovremo trasferire in una zona completamente diversa da questa perché andremo dove c'è la mia base subacquea perché oggi andremo a costruire un vero e proprio sottomarino. Questa invenzione con la redstone non avrà la forma di un sottomarino perché sarebbe impossibile ma permetterà al giocatore di entrare, di respirare e di muoversi sott'acqua. Quindi sarà una sorta di macchina volante, ne abbiamo fatte diverse qua all'interno di questo mondo, che però potrà funzionare sott'acqua ed è per questo che l'ho voluta costruire nella zona della base subacquea. Le persone che si sono iscritte recentemente a questo canale non conosceranno questa zona del mio mondo perché si trova abbastanza lontana, infatti bisogna utilizzare un portale sul tetto del nether per poterla raggiungere. Qua abbiamo un ascensore, così, che ci porta praticamente all'interno della base subacquea. Eccola qua, perfetto ragazzi, siamo arrivati. È una zona che devo ancora finire perché come vedete c'è tutta questa parte ma è ancora completamente vuota. Ovviamente ci troviamo sott'acqua, vedete che qua c'è tutto quanto. Se andiamo da questa parte esiste anche un'uscita per poter andare in mare. Qui ci sono anche dei villager che ho portato ma a noi ci interessa questa parte qua. Quindi usciamo e andiamo a chiudere prima che i villager escano. Ed ecco qua la nostra base subacquea, ragazzi. Guardate che figata con tutte le bolle, la costruzione, qua ci sono i coralli, i pesci tropicali, eccetera. E come vedete qua c'è una zona con un relitto. Allora ho deciso di costruire questo piccolo sottomarino da questa parte in modo che possa percorrere in entrambe le direzioni da qui fino un pochino più in là di questi coralli. In modo che più o meno, perché non è semplice, si possa vedere questa barca sommersa e ovviamente tutto il resto che c'è qua sotto il mare. La parte con i coralli poi qua si ferma ma volendo possiamo aggiungerne degli altri anche perché la zona fa parte un po' del mondo vecchio e un po' del mondo che ho creato con il nuovo seed. Anche se le due cose diciamo stanno bene insieme bisogna un attimino andare a sistemare per esempio questa parte dove non c'è nulla. Dimenticavo di dirvi che qua sotto possiamo respirare perché qua ho costruito un conduit e quindi mi permette di avere sia la respirazione infinita sott'acqua e anche una visione più chiara. Quindi anche nella zona dove costruiremo il sottomarino avremo questa cosa. Quindi ci aiuterà sicuramente a vedere molto meglio all'esterno. Allora vado a spiegarvi innanzitutto come funziona questo meccanismo. Come vedete qua ho messo questo blocco di ossidiana che servirà a fermare il meccanismo quando arriveremo qua mentre dall'altra parte un bel po' di blocchi ne ho messo un altro per fermarlo nell'altra direzione. Infatti noi con questo sottomarino potremo andare avanti e indietro tutte le volte. Non potremo fermarci a metà quindi dovremo per forza percorrere tutto quanto il tragitto. Ora vado a posizionare questi slime block ne metto uno qua e un altro qua e poi vado a mettere qui a fianco un pistone appiccicoso così e qua altri due slime block uno e due e qua davanti vado a mettere temporaneamente un altro blocco di ossidiana che mi servirà a fermare tutto mentre sto costruendo. L'unico modo che abbiamo sott'acqua per sfruttare la redstone è avere dei note block che ci permettono di creare un segnale e degli observer che ci permettono di spostarlo perché noi qua sotto non possiamo utilizzare la polvere di redstone. Quindi mettiamo un note block in questo punto che servirà per far partire il sottomarino e andare in una certa direzione. Quindi qua andremo ad attaccare un observer che guarda quando noi andremo a premere questo note block. A questo punto trasferirà il segnale di redstone a questo pistone che quindi si muoverà in questa direzione. Poi qua abbiamo un altro di questi observer. Questa volta che guarda nell'altra direzione perché qua devo mettere un note block che sarà quello per far tornare indietro il sottomarino. Togliamo questo observer e guardiamolo invece in quest'altra direzione. Quindi qua adesso devo metterlo così in modo che la freccia si è rivolta verso il basso. Quando noi andremo a premere questo note block il segnale arriverà sempre a questo pistone. Ora andiamo a creare lo spazio dove starà il giocatore e dovremo anche creare una sorta di bolla d'aria per poter respirare. In questo caso con il conduit non avremo bisogno di questa cosa ma io ve lo mostro nel caso non abbiate il conduit. Allora andiamo a mettere un altro di questi slime blocchi in questo punto poi uno qua uno qua e uno qua sopra e poi andiamo a mettere qua dei vetri ne mettiamo uno qua che volendo possiamo anche togliere e altri due li andiamo a mettere qua e qua. Ora ci serve posizionare un pistone appiccicoso qua vediamo se ci riesco direi che sì perfetto che va contro questo slime block qua e poi altri due slime block uno qui e uno qui. Tutti questi slime block permetteranno alla struttura di muoversi perché tengono appiccicati tutti quanti i vari blocchi. Bene diciamo che il sottomarino vedete non ha una forma proprio che richiama un sottomarino ma diciamo che l'idea è quella è praticamente finito. Ora andiamo a mettere la parte dove starà il giocatore. Noi qua andiamo a posizionare un blocco di sabbia in modo da togliere l'acqua in questo punto e poi andiamo a mettere una trapdoor così. Vedete che qua praticamente non c'è dell'acqua infatti se noi ci mettiamo sopra con il nostro giocatore scendiamo qua ragazzi così e chiudiamo la trapdoor. Vedete che ci troviamo all'interno di questa bolla d'aria infatti le bollicine sul mia interfaccia sono sparite perché stiamo respirando normalmente e noi saremo all'interno del sottomarino attraverso questi vetri va bene qui c'è lo slime block ma non ci possiamo fare nulla possiamo anche guardare all'esterno e adesso ragazzi ci tocca togliere questo blocco di ossidiana e provare a vedere se tutto funziona. Ci siamo ragazzi ho tolto il blocco di ossidiana qua davanti adesso possiamo entrare nel sottomarino quindi apriamo qua proviamo a scendere e chiudiamo la trapdoor in modo da incastrarci qua dentro e ragazzi da questo punto potremo raggiungere entrambe i note block noi però per partire dobbiamo iniziare a premere questo. Siete pronti? Via! Ragazzi il sottomarino è partito come vedete ci stiamo spostando sott'acqua adesso vi faccio vedere la visuale esterna vedete che il mio giocatore è all'interno e il sottomarino sta percorrendo tutto quanto il fondale marino adesso qua ci sono anche queste kelp che si romperanno e le andremo a recuperare e qua potremo ammirare il panorama ragazzi è fantastico ecco qua la nostra barca sommersa chiaramente attraverso i vetri e con le shaders abbiamo questo effetto comunque è davvero incredibile ecco siamo quasi arrivati alla fine ok e come vedete ci siamo fermati ora se vogliamo tornare indietro dobbiamo semplicemente andare a premere quest'altro note block e il sottomarino andrà nella direzione opposta e quindi tornerà nel punto da cui siamo partiti sono molto contento anche se semplice però devo dire d'effetto adesso come potete notare però il fondale non è molto decorato voglio illuminarlo un po metterci altri coralli magari aggiungere anche delle bolle insomma andare a decorare tutto quanto quindi qua possiamo uscire dal nostro sottomarino e tornare a nuotare volendo qua sopra potremmo anche creare una specie di tubo di vetro o di un altro materiale e quindi andare a fare una sorta di discesa per entrare nel sottomarino e per uscire dall'altra parte questo è a nostra discrezione l'importante però è non mettere blocchi che interferiscano il movimento ed eccoci qua ragazzi con tutta quanta la zona decorata come vedete ho aggiunto un po di dettagli un po di coralli un po di bolle qua ci sono alghe l'ho fatto lungo tutto quanto il percorso vedete qua in mezzo alle alghe e anche ho aggiunto un po di bolle qua dove c'è la nostra barca sommersa a questo punto possiamo riprovare a far partire il nostro sottomarino anzi non entriamo dentro ma facciamo direttamente il percorso all'esterno così lo vediamo muoversi allora dobbiamo semplicemente andare a premere qua ok eccolo qua il nostro sottomarino è partito fantastico ragazzi mi piace davvero tantissimo quello che ho costruito e spero che piaccia anche a voi perché è davvero davvero spettacolare e dunque ragazzi siamo giunti anche oggi al termine di questo particolarissimo episodio spero che questa invenzione vi piaccia mi raccomando questa sera alle 20 e 30 su twitch per continuare i lavori che avete visto nella zona medievale a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.